Musica Recovery in netto calo nelle marche poco più di 300 positivi in 24 ore 13 decessi in un giorno Da lunedì al via le prenotazioni per i vaccini, gli assistenti e i familiari dei disabili Minacce fisiche e psicologiche, pedinamenti e tentate estorsioni La polizia di Fano attiva il codice rosso per due donne vittime della violenza di genere Il convivente e l'ex compagno non potranno più avvicinarsi Polpette avvelenate al parco Miralfiore, il comune di Pesaro mette i cartelli di pericolo Amareggiato l'assessore Belloni Non capisco la delinquenza di chi trova piacere a compiere questi gesti ai danni degli animali Si avvicina con la scusa di conoscerlo e con un'abile mossa gli scippar Rolex La denuncia della figlia dell'anziano che chiede un aumento dei controlli in zona passeggi a Fano A Calcinelli filmato il teppista che ha squarciato il gazebo alla scuola primaria Individuato anche il minorenne che ha imbrattato le mura di Serrungarina con la bomboletta spray Una doppia ferrovia parallela alla superstrada C'è entusiasmo per il progetto innovativo dei fratelli indio di Fossombrone Dopo i pareri positivi ora la palla passa alla politica Scrive alla regina Elisabetta e dalla casa reale Arriva la risposta, la sorpresa per Pietro Torsitano di Cene di Lucrezia Che aveva chiesto un franco bollo a sua maestà Insieme faremo grandi cose il CT della nazionale Roberto Mancini Alle prese con gli spot per promuovere le marche Orgoglioso il governatore abbiamo una regione ricca e straordinaria Con la sua testimonianza diventeremo riconoscibili in tutto il mondo Cordiale saluto dalla redazione Occhio alla Notizia Bentornati sul canale 17 di Fano TV Apriamo con la cronaca perché il commissariato di Fano ha attivato il codice rosso E denunciato due fanesi responsabili di maltrattamenti in famiglia Lesioni personali e distorsione Letizia Marchionni Il commissariato di Fano ha attivato recentemente In due casi di violenza di genere La procedura chiamata codice rosso Sotto la titolarità della Procura della Repubblica di Pesaro Nel primo caso, secondo le indagini svolte dal commissariato di Fano Al cui interno opera un'unità specializzata per le violenze di genere L'ex compagno della donna che ha sporto denuncia Si è reso responsabile di atti persecutori e tentata istorsione La situazione della donna, oggetto della morbosa gelosia manifestata dall'uomo Dopo la loro separazione Si è progressivamente aggravata passando in pochi mesi Da pesanti esternazioni verbali, appedinamenti, gravi intrusioni Per sfociare infine in atteggiamenti minacciosi Rivolti anche contro la figlia maggiorenne della coppia Verso la quale l'uomo nutriva risentimenti per motivi economici Per questo l'autorità giudiziaria ha applicato nei confronti dell'uomo La misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa E del divieto di comunicare con la stessa Nel secondo caso, la donna, prima di rivolgersi ai poliziotti del commissariato Ha supportato per lungo tempo pesanti sopraffazioni e umiliazioni da parte del convivente Una situazione ulteriormente aggravata dalla comune gestione di un'attività commerciale L'uomo le ha inflitto per anni continue sofferenze fisiche e morali Rendendole la vita impossibile ed estendendo le umiliazioni anche all'ambiente lavorativo Denigrandola e sminuendone le capacità professionali Dopo la denuncia, i poliziotti hanno attivato la procedura del codice rosso Con il coordinamento dell'autorità giudiziaria Che ha applicato nei confronti dell'uomo La misura cautelare dell'allontanamento immediato E del divieto di avvicinamento alla vittima Shipo un Rolex con la scusa di conoscerlo È successo questa mattina alle 9.20 in via della Costituzione a Fano Ai danni di un uomo di 78 anni A raccontarci l'accaduto è stata la figlia Una donna mora con i capelli legati Giacca bianca corta, sportiva e pantaloni neri Gli ha afferrato il polso dicendo Ti ricordi? Ci siamo visti in farmacia E in pochi secondi ci ha spiegato e gli ha sfilato il monile Mio padre, ha proseguito la telespettatrice Non conoscendola, l'ha subito allontanata E dopo qualche minuto si è accorto di non avere più l'orologio al polso L'uomo sporto denuncia al commissariato Mentre la figlia sollecita un aumento dei controlli Nelle zone limitrofe ai passeggi di Fano E dopo l'episodio del mese scorso Questa mattina al parco Miralfiore di Pesaro Sono state trovate altre polpette avvelenate Indignato l'assessore Enzo Belloni Il servizio di Angelica Panzieri Polpette avvelenate questa mattina al parco Miralfiore di Pesaro Nel quartiere di Villa San Martino Il comune si è visto costretto a posizionare dei cartelli All'interno di tutta l'area verde per indicare il pericolo A fare la mara scoperta alcuni cittadini che si trovavano all'interno del parco Sul quale sono poi intervenuti carabinieri forestali e polizia locale Ci sono i nostri dipendenti del centro operativo E i volontari che stanno in qualche modo battendo la zona Per vedere se ce ne sono altre E' chiaro il parco sono 23 ettari Quindi non è facilissimo da controllare tutto Quello che mi preme sottolineare Da amante degli animali Ovviamente io il cane è uno proprio di famiglia Non riesco a capire l'imbecillità e la delinquenza di certi personaggi Che si divertono e che trovano piacere a compiere certi gesti Però un segnale importante lo dovremmo dare anche noi proprietari dei cani E non lasciarle di gestione in giro Perché poi alla fine il pretesto per compiere simili gesti E' quello che magari uno si sporca la suola della scarpa con la cacca del cane Quindi dobbiamo essere noi amanti degli animali I primi a rispettare chi e magari non vuole Prima di tutto la città Rispettare i nostri animali Perché alla fine il prezzo lo pagano loro E soprattutto un senso civico che non dovrebbe mai mancare Scritte sulle mura antiche di Serungarina E uno squarcio sul tendone installato per gli alunni di una scuola di calcinelli Grazie alle telecamere e al lavoro della polizia locale Sono stati individuati i responsabili dei due atti vandalici nel comune di Colli al Metauro Filippo Pucci Installate neanche dieci giorni fa E già hanno individuato il responsabile del primo atto vandalico Le telecamere posizionate in 15 punti diversi nel comune di Colli al Metauro Hanno identificato lo scorso weekend un ragazzo Che forse per noia o per altri futili motivi Ha squarciato i teloni del grande gazebo posizionato dall'amministrazione comunale Che consente agli alunni della scuola Lugli di Calcinelli Di entrare in modo scaglionato alle lezioni Nella notte di sabato c'era un gruppo di ragazzetti Maggiorenni Tra i quali un ragazzo ha squarciato il tendone E ha rovinato in diversi punti Commettendo questo atto vandalico Immediatamente ci siamo attivati il nostro corpo di polizia locale Su segnalazione che devo ringraziare anche della maestra Nonché consigliera di minoranza La De Luca E grazie all'identificazione Dell'utilizzo di queste immagini Siamo riusciti a identificare il responsabile del fatto Che è già stato denunciato presso la Procura della Repubblica Per denneggiamento di cosa pubblica Il soggetto sarà anche richiamato A mettere a posto ciò che ha danneggiato Un altro episodio invece si è registrato a Serungarina Nella serata di domenica Ad essere prese di mira questa volta Le antiche mura del borgo Con scritte realizzate con le bombolette spray In questo caso sono ancora in corso le indagini Da parte della polizia locale Al momento siamo consapevoli e coscienti E abbiamo identificato un solo soggetto Che abbia compiuto questo tipo di atto vandalico In questo caso parliamo di minorenni Minorenni che non sono del municipio di Solongarina Ma hanno raggiunto questa località con dei motorini E nei giorni scorsi, proprio l'altro ieri Il genitore di questo ragazzo Che poi si è costituito Vedendo anche sui social le scritte Il nome del figlio Praticamente ha chiamato il nostro corpo di polizia locale E si è presentato dietro al nostro consiglio Spontaneamente alle forze dell'ordine Anche in questo caso i colpevole o i colpevoli Verranno denunciati presso la Procura della Repubblica Questa volta anche per, non solo per eventuale danneggiamento Ma sicuramente per deturpamento della cosa pubblica Un plauso va alle forze di polizia locale Ha sottolineato il sindaco Andrea Giuliani Per il grande lavoro svolto nelle indagini Condotte dal commissariato Valerio Argentati Con questi brutti episodi, ha aggiunto il primo cittadino Si esprime l'intenzione della nostra amministrazione Di non lasciare impuniti gesti del genere Al di là delle pene o delle punizioni Chiamiamole così Che verranno inflitte E che non sta a noi certamente decidere E' importante che questi gesti Siano comunque educativi Per coloro che li hanno compiuti Siano un'occasione di crescita E soprattutto per la popolazione La popolazione abbia la certezza Che niente rimane impunito Quando si deturpa la cosa pubblica E si va a danneggiare qualcosa che è di tutto E adesso il coronavirus Sono 13 i decessi che si sono verificati Nelle Marche nell'ultima giornata 8 di queste vittime erano residenti Nella provincia pesarese E avevano un'età compresa tra i 69 e i 100 anni I positivi rilevati invece sono 326 In testa le province di Macerata Con 92 casi e di Pesor Urbino con 87 Anche oggi è stato registrato Un netto calo dei ricoveri Negli ospedali ci sono 37 pazienti in meno Rispetto a ieri I degenti in terapia intensiva Scendono a 112 Mentre quelli in semi intensiva a 176 Ed è stata completata la vaccinazione Degli over 80 che si erano prenotati Dal lunedì prossimo invece Potranno prenotarsi i familiari dei disabili E gli assistenti Sono 350.948 le persone che si sono prenotate Per essere vaccinate E 279.061 i cittadini che hanno ricevuto La prima dose su 1.200.000 marchigiani da vaccinare Così scrive in un post su Facebook L'assessore alla sanità della regione Marche Filippo Saltamartini La platea degli over 80 che si erano prenotati Nei punti vaccinali Ha proseguito l'assessore Stanno tagliando questo ambito traguardo Tra le prime regioni in Italia Martedì, ricorda infatti Saltamartini Vi era stata la telefonata Del commissario figliuolo Al presidente della giunta Acquaroli In questa settimana Continua Dovremmo chiudere la vaccinazione Di questo target a livello domiciliare Ne mancano 3.000 circa Lunedì 19 ha poi fatto sapere Saltamartini Si apre lo slot delle poste per la prenotazione E dopo qualche giorno con la vaccinazione Per i familiari o caregiver delle persone disabili Sono 99.000 ma nel frattempo 1.600 Hanno ricevuto il vaccino in vari ospedali Allorquando hanno accompagnato i loro familiari o assistiti Anche la categoria dei disabili Ha proseguito l'assessore marcia speditamente Sono 140.000 e il piano prevede un'accelerazione Per chiudere entro la fine del mese La vaccinazione della categoria 60-70 Composta da circa 200.000 persone Ha poi fatto sapere Saltamartini Verrà vaccinata all'inizio di maggio I sieri di aprile Circa 210.000 Non coprono le fasce di età già citate È per questo che lo slot già pronto a cura di poste italiane Partirà in prossimità dell'effettiva vaccinazione I rifornimenti, ha spiegato l'assessore Per il momento sono regolari Anche se il piano degli arrivi per maggio e giugno Ancora non è stato comunicato Si dovrebbe trattare di un rifornimento massiccio Di 600-700.000 dosi Ha concluso Saltamartini Una doppia ferrovia parallela alla superstrada Con un tracciato che andrebbe a collegare tre regioni Dando un risvolto all'isolamento infrastrutturale delle Marche Il progetto ambizioso di due architetti di Fermignano Che ora dovranno attendere una decisione Che è strettamente politica Una visuale dall'alto per mostrare Come potrebbe diventare la superstrada Fano Grossetto affiancata da una doppia linea ferroviaria E' il progetto innovativo e sostenibile Di Lorenzo e Francesca Indio di Fermignano I due architetti, fratello e sorella Hanno già illustrato in regione all'assessore Baldelli E a un responsabile tecnico di ferrovie dello Stato L'idea e i rendering Che hanno già suscitato entusiasmo E pareri positivi sulla fattibilità dell'intervento Francesca, quando è nata innanzitutto l'idea di realizzare questo progetto? Allora, è nata dal nostro Vivere il territorio Perché ci siamo resi conto prima da studenti E poi da viaggiatori Che le nostre scelte di vita sono state fortemente influenzate Dalla mancanza di collegamento della nostra area E questo ci ha portati a prediligere una scelta nord-sud Principalmente rispetto alla scelta est-ovest Che stiamo cercando di spingere In un unico tracciato, ci spiega Francesca Potremmo avere questi due tipi di viabilità Inserendo le opere necessarie Affinché le due linee possano viaggiare in sicurezza L'idea è quella di posizionare la doppia linea ferroviaria Nella fascia di rispetto di 40 metri Della E78 Questo perché l'E78 fa parte di un progetto definitivo Progettato da ANAS e da Regione E quindi noi vogliamo questo per avere un minore consumo di suolo E quindi di sfruttare quelle aree che sono già presenti All'interno dei PRG delle aree interessate E quindi di avere anche un minore impatto ambientale Sia per quanto riguarda l'inquinamento acustico Che appunto per l'inquinamento portato Dalla linea sia ferroviaria che stradale Infatti si tratta di aree parzialmente vincolate Non edificabili Inoltre il nuovo tracciato andrebbe a collegare tre regioni Marche Umbre e Toscana Andando a diminuire l'isolamento infrastrutturale Sofferto dal nostro territorio Non solo da un punto di vista dei passeggeri e del turismo Ma anche da un punto di vista di movimentazione delle merci Tra i porti dell'Adriatico e del terreno Inoltre avrebbe anche una grande importanza Da un punto di vista ecologico In quanto ogni treno merci sostituisce circa 40 tir Quindi tutta la movimentazione delle merci e dei passeggeri Andrebbe oltre che ad agevolare lo spostamento Anche a diminuire l'inquinamento delle nostre zone Delle nostre introterra Altro elemento da tenere in considerazione Ne prosegue Lorenzo E che la nuova linea ferroviaria Andrebbe a liberare il vecchio tracciato Sul quale quindi si potrebbe realizzare una pista ciclabile Allora noi abbiamo portato il progetto a chi di dovere E a questo punto diventa una scelta politica Perché la rilevanza non è più regionale Ma diventa di rilevanza nazionale E soprattutto europea Facendo parte di una linea di collegamento trans-europea Tra i Balcani e la Spagna Per la movimentazione delle merci E diversi nostri telespettatori oggi ci hanno segnalato Disagi al traffico lungo la Flaminia Da ieri infatti è chiuso il tratto di superstrada Compreso tra Bellocchi e Lucrezia Dunque il traffico si è riversato appunto sulla Flaminia Dove però sono stati posizionati più semafori A causa di alcuni lavori Ad esempio all'altezza di Rosciano Sono in corso degli interventi alle fognature Adiacenti al nuovo distributore di carburante L'ANAS ci hanno detto dalla provincia Ha individuato la strada della Cerbara Come alternativa A Cucurano invece ci sono altri due cantieri Il primo riguarda la copertura di un fosso Mentre il secondo che è di ASET SPA Riguarda un intervento di allaccio Ma il direttore tecnico Marco Romei Oggi pomeriggio ci ha fatto sapere Che gli operai termineranno in brevissimo tempo Scrive alla regina Elisabetta E dopo poco più di tre mesi Arriva la risposta dalla Casa Reale E la sorpresa ricevuta da Pietro Torsitano Un dicenne di Lucrezia di Cartoceto Che aveva chiesto un francobollo A sua maestà Raccontandole del suo interesse per Buckingham Palace Pietro è arrivata una lettera da Windsor Castle Non riusciva a credere alle parole della mamma E invece era tutto vero Nella buca delle lettere c'era proprio quella Che stava aspettando da più di tre mesi Con tanto di sigillo di Buckingham Palace Eccola qua la risposta è arrivata direttamente dal Regno Unito Tutto è nato nel mese di gennaio Quando Pietro Torsitano Undici anni di Lucrezia di Cartoceto Ha strappato un foglio dal quaderno di scuola Ha preso una penna E ha scritto alla regina Elisabetta II Il suo desiderio era quello di ricevere un francobollo Della famiglia reale Praticamente mamma è andata a prendere la Giulia Mia sorella a scuola E allora è tornata con una lettera in mano E mi ha detto che mi aveva disposto Io non ci credevo lì per lì Perché dopo quattro mesi Non lo aspettavo Poi mi ha fatto vedere che dietro la busta C'è il simbolo del Royal Mail Come si può vedere E allora lì mi sono un po' detto Oddio non ci credo Non è vero Era un primo sabato di gennaio Allora avevo mandato questa lettera Alla regina Elisabetta Proprio perché mi interessava la storia di Buckingham Palace E perché mi interessava anche la storia della regina Elisabetta Ecco ma come mai questa passione Dai libri che hai studiato a scuola Oppure da qualche storia in famiglia Da tutte e due Diciamo un po' perché abbiamo studiato Buckingham Palace a scuola E un po' perché avevo fatto alcune ricerche io appunto approfondite L'altro della famiglia avevo guardato molti film sulla regina Elisabetta La storia di Buckingham Palace Sebbene incapace di fare come chiedi Si legge nella lettera La regina ti è molto grata Per esserti preso la briga di scrivere E apprezza il tuo gentile pensiero Nell'esprimere quanto ti sia piaciuto imparare Su Buckingham Palace Allego un foglietto informativo Che spero ti piacerà avere E ti hanno scritto sicuramente le persone Che aiutano la regina Ma ti hanno ringraziato Sì sì infatti sotto la lettera c'è proprio scritto Lady in waiting La persona che accudisce la regina Beh una bella soddisfazione Comunque immagino ti abbia fatto piacere Sì sì mi ha fatto molto piacere Comunque se no me lo aspettavo Ora che cosa farai? Continuerai a ricercare anche questo francobollo E a studiare ancora altre cose su Buckingham Palace? Sì sì adesso ho anche il castello di Windsor Volevo anche un po' approfondire anche su quello Ecco magari un giorno anche andarlo a visitare Sì certo perché fare tutte queste ricerche Senza andare a visitare è un po' scoccia Comunque E che cosa vorresti fare da grande? Da grande? Oddio ancora non ci ho pensato Avrai tempo per pensarci Esatto sì Però sei rimasto contento intanto? Sì sì comunque sì 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 perché dicevo una lettera così Non capita tutti i giorni ecco Un onore come quando sono stato scelto Commissario tecnico della Nazionale Sono le parole di Roberto Mancini Testimonial delle Marche Che oggi ha tenuto una conferenza stampa in Regione Insieme a detto il mister faremo grandi cose Ha cominciato le riprese in giro per le Marche Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini Nato a Iesi è testimonial D'eccezione della regione dopo l'accordo siglato il mese scorso Che lega la sua immagine alla promozione turistica del nostro territorio fino al 2023 Per me ha detto il mister è un grande onore essere stato scelto come testimonial Esattamente come quando sono diventato allenatore della Nazionale Entrambe situazioni difficili nelle quali nessuno credeva La Nazionale in due anni l'abbiamo riportata ai vertici Mentre le Marche hanno grandi qualità Tutti insieme speriamo nel giro di pochi mesi possiamo uscire da questa pandemia Milioni di persone sono pronte a venire nelle Marche L'unica difficoltà ha detto facendo riferimento a collegamenti infrastrutturali È che è difficile arrivarci Poi alla domanda di una giornalista che gli ha chiesto quale luogo consiglierebbe Mancini ha risposto Porto Novo è uno dei posti più belli al mondo Noi italiani siamo fortunati e bisognerebbe visitare prima le bellezze di casa che quelle all'estero Sono sicuro ha dichiarato Mancini che insieme faremo grandi cose Bisogna ripartire da questo, avere il coraggio, capire che abbiamo delle grandi qualità e dei posti meravigliosi Quindi bisogna credere nelle proprie qualità che si hanno E mettere a disposizione delle persone che vengono a visitare le Marche Quindi si riparte da questo e bisogna soprattutto credere in se stessi sempre Speriamo che insieme al Presidente e insieme a tutti i componenti della Regione Si possa lavorare per far sì che le Marche tornino a risplendere Orgoglioso ed emozionato il Governatore Francesco Acquaroli Al fianco del Mister e del Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini L'immagine e la testimonianza del CT, ha commentato il Presidente, aiuterà la Regione a diventare protagonista E ad avere una maggiore consapevolezza sulle nostre bellezze e sul grande patrimonio su cui possiamo puntare Potremo far riscoprire a tanti la passione per una Regione straordinaria e ricca Che può affermare una sua capacità turistica e commerciale a livello globale Potremo diventare riconoscibili nel mercato nazionale e internazionale Tutti insieme dobbiamo lavorare in squadra per rinunciare il nostro territorio Superare questo momento complicato e difficile Ma sono sicuro che abbiamo tutti gli ingredienti per farcela e fare bene Gli spot andranno in onda sulle reti televisive e sui social L'obiettivo, ha spiegato il direttore creativo Gianluca Ignazzi È quello di costruire un vero piano editoriale Abbiamo già percorso 650 km e presto daremo alla Regione Tutto il materiale necessario per una comunicazione costante Invitando alla destagionalizzazione Siamo pronti, ha poi concluso Acquaroli, per una nuova stagione di rinascita post-covid E per la riscoperta delle nostre bellezze E anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri A Edo Cecchini e Maria Mencarelli di Sant'Orso di Fano Che proprio oggi festeggiano 65 anni di matrimonio E dunque le nozze di Pietra E vi annuncio che lunedì sera a Primo Cittadino in diretta Subito dopo il nostro telegiornale L'ospite sarà il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri Tra poco invece andrà in onda un approfondimento condotto da Maria Elena Delbianco Sulla rassegna impronte femminili Insieme all'assessore e alle pari opportunità del comune di Fano Sara Cucchiarini e ad altri ospiti Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia E buona serata a tutti voi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti